OST 2019, siamo allo stand della Carpino SRL, un'azienda salernitana che ancora una volta espone qui a OST 2019. Siamo in compagnia di Antonio Carpino, il responsabile commerciale dell'azienda che salutiamo, bentornato. Buongiorno, buonasera a tutti. Antonio, cosa presentate oggi a OST 2019? Bene, oggi il mercato si sposta più sulla ristorazione e noi accompagniamo il mercato con degli articoli che il mercato si chiede e soprattutto guardiamo con molta attenzione prodotti naturali come questi dispenser che stiamo facendo in bambù per un pochino tutti i formati che noi facciamo. La vostra presenza qui è caratterizzata anche e soprattutto da una serie di prodotti ecologici come quello in bambù. Ma cos'altro offrite? Io vedo che siamo circondati da oggetti legati al packaging. Sì, sono dei tovaglioli, sono per gli aperitivi, per i cocktail e stiamo servendo anche delle grosse compagnie che producono bevande alcoliche o non alcoliche. Voi vi rivolgete a un pubblico nazionale, suppongo? No, 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 assolutamente ci rivolgiamo a un pubblico nazionale ma anche europeo, non posso dire internazionale, ma siamo molto presenti in campo europeo, sia in Germania, Austria, in Repubblica Ceca, Polonia, Spagna, Francia. La varietà dei prodotti è estremamente vasta. Per chiunque desideri avere maggiori informazioni tra coloro che stanno guardando l'intervista in questo momento, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui potrai scrivere per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Info chiocciolacarpinosrl.com Antonio, grazie. Grazie, buona giornata, grazie infinite.